Questa è una manifestazione per una scadenza non rispettata, si parla del pagamento, di quello che è stato il lavoro. Il 31 è la scadenza ultima data, ci sarà un incontro con la Regione? Intanto questo è uno scandalo internazionale, si tratta di fondi europei, sono due anni che è iniziato un tirocinio formativo con soldi della comunità europea, hanno visto impiegati 25 ragazzi disabili, questi ragazzi hanno finito il loro tirocinio formativo che serviva al percorso lavorativo in base alla legge sul collocamento obbligatorio, i ragazzi hanno avuto il pagamento delle tre mensilità mentre le altre 4-5 sono andate deserte, questi ragazzi per due anni hanno bussato nella Regione e dalle istituzioni e non hanno ricevuto nulla. Oggi ci vengono a dire che c'è una sola associazione cooperativa presso la quale tra l'altro i tirocinanti non sono nemmeno andati a fare il tirocinio che ha qualche piccola irregularità di 200 euro, pensate di soli 200 euro, rischia la Regione Abruzzo, si assume la responsabilità di rimandare all'Europa 60.000 euro e di non pagare 25 ragazzi disabili che hanno fatto un percorso in tirocinio formativo. Il problema burocratico che loro sanno benissimo, è questo che mi dispiace molto perché sanno esattamente qual è il problema, è che noi siamo pronti a pagare, i fondi europei per noi non ritorneranno in Europa, siamo pronti, la determina è pronta e i fondi ci sono. Il problema è che un ente pubblico come la Regione non può spendere, non può usare fondi pubblici se le aziende non sono in regola, le aziende che dobbiamo pagare per il tirocinio fatto dai disabili non sono in regola. E' la legge che ci impone questo, stiamo cercando di andare incontro ad una delle aziende partner di questo progetto che ha problemi contabili e spero che questa ditta riesca a trovare una soluzione, altrimenti per i disabili una soluzione la troveremo comunque.